Un gol del solito Davide Acia decide il match della SSD Gela contro gli Frigintini e arriva così la prima vittoria nel torneo di promozione. Primo tempo scoppia in tante con tantissime palle gol tutte per la formazione bianco-azzurro di Mirko Fauciana. Già dopo tre minuti ci prova con un tiro a volo il capitano Acia poco fortunato. Dopo appena 30 secondi ancora opportunità per i bianco-azzurri la girata di Floridia finisce di poco alto. Al tredicesimo ancora dal cross di Doma sulla fascia destra tra i migliori in campo nel primo tempo arriva l'incornata del solito capitano Acia. Sempre gel in attacco al ventesimo Minolfi da due passi su un assist di Acia non riesce a segnare il gol del 1-0. E nel successivo contropiede 3 contro 2 del Frigintini che colpisce il palo con San Giorgio Pandolfo non ci sarebbe arrivato. Al ventisettesimo ancora Gela in avanti con Doma altra conclusione e palla che però non si infila in porta. Il gol arriva al quarantaquattresimo. Splendida punizione del centrocampista Pira che colpisce in pieno la traversa e sulla rispinta c'è la girata al volo di Davide Acia. Gol spettacolare e applausi del pubblico del Presti. Nel secondo tempo ritmi sicuramente più bassi anche per il Gran Caldo. Ci prova ancora Pira su calcio di punizione. Il pallone sfiora la porta alla destra del portiere Modicano. Per rivedere il Gela in attacco bisogna attendere il trentunesimo. Il neo entrato Caci prova con il sinistro a sorprendere il portiere ospite. La palla viene deviata in calcio d'angolo. E al novantesimo c'è ancora uno slalom dalla destra del giovane attaccante Caci. L'assist per Scerra è perfetto palo pieno dell'attaccante Biancoazzurro. E dopo cinque minuti di recupero finisce la partita con il successo della SS di Gela. Com'è giudica la prestazione di oggi della squadra? Sono molto soddisfatto. Sapevamo il valore dell'avversario. Venivamo dalla Coppa di mercoledì. Quindi diciamo che tutto sommato i ragazzi su alcuni aspetti hanno dato dimostrazione di una forza esemplare. Quindi sono molto soddisfatto. Penso che la squadra sia tra le favorite per la promozione? È difficile dirlo alla seconda giornata di campionato. Sicuramente ci apprestiamo ad affrontare squadre che sono molto attrezzate e di conseguenza capiremo più avanti il vero valore sia della promozione ma di noi stessi. Come giudica la prestazione un po' sottotono di Floridia, soprattutto dopo la tripletta di mercoledì? Davide era un po' stanco. Tant'è vero che venerdì gli abbiamo fatto fare un differenziato. voleva essere presente il ragazzo che ha delle qualità straordinarie. Capita di avere delle giornate un po' così sottotono però chiaramente conosciamo il ragazzo che dà sempre il 100%. Sei contento della tua prestazione di oggi? Sì, sì, era una bella prestazione. Sono riuscito a fare gol, a portare questi tre punti a casa, dove era importante vingere oggi e portare questi tre punti importanti. Senti la pressione della competizione che c'è tra te e Serra, soprattutto dopo aver fatto tanti gol la scorsa stagione? Assolutamente no, tutti giochiamo per lo stesso obiettivo, quindi non c'è nessuna pressione tra di noi. Pensi che potreste mai giocare con il 4-4-2 magari, insieme in attacco? Perché no. Il mister durante la settimana prova diversi moduli e fa il possibile per impiegare tutti i tesserati e giocare la domenica. Siete carichi in vista della prossima partita? Sì, settimana dopo settimana ci alleniamo proprio per portare a casa la vittoria e durante la settimana studiamo proprio l'avversario.